Per averla nel 2035 ancora bella e incontaminata, bisogna lavorare, bisogna lavorare molto. Per sviluppo sostenibile intendo non solamente sostenibile da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista sociale. Quindi ognuno di noi deve mettere un piccolo tassello in questo puzzle che porta appunto all'Elba del 2035, all'Elba del futuro. Perché chi ama un territorio poi lo difende, lo protegge e se ne prende cura. E credo che questa sia la cosa più importante, prendersene cura per continuare a avere un'isola così bella e così incontaminata. Credo che questo progetto 2035 veda questo futuro dell'isola da tante sfaccettature, in maniera poliedrica. Quindi proponendo soluzioni non solamente legate al turismo, non solamente legate all'impresa, non solamente legate alla salute, ma rispetto a quello che è la complessità di una costruzione di futuro.